Ciao a tutti, bacione enormi dalla vostra unica. Come vedete, come avete visto dal titolo, video in collaborazione con IconTest che ci ha mandato gratuitamente, e li ringrazio, la striscia LED RGB che cambia colore da 5 metri che adesso andiamo subito a farvi vedere. E vi dico già che sotto nell'info box costa 17,99€ però potete trovare il link della pagina dove potete appunto ottenere il codice sconto del 10%, c'è il link per andare su quella pagina lì, tutto sotto nell'info box come sempre. Adesso il pacchettino arriva così, tutto bello imballato con questa bella carta di Amazon, e poi c'è il pluriball tutto bello imballato, e lei si presenta nella sua scatolina al contrario, brava mica, così. Ed è questa che ha il telecomandino, cambia colore, adesso c'è qua anche mio maritino insieme perché è il tecnologico, se no io... Allora, la apriamo, c'è la presa, che dopo andiamo ad attaccare, qua tutto bello imballato e anche nel sacchettino, c'è il telecomando, e qui c'è il sacchettino con la striscia. Allora, aspettate, adesso andiamo ad aprirla, la sua bella chiusura ermetica, e la togliamo, e voilà. Queste qua sono bellissime perché appunto potete decorarci qualsiasi parte della casa, della camera, avete anche voi la postazione, l'attaccate tutta sulla postazione, io penso che sia... Ma a me piacerebbe farlo, Morine. No, è bello perché puoi scegliere il colore che vuoi, scorsi e quello, poi ha alcuni effetti anche. Bella, l'ho già vista in parecchi video di alcuni youtuber, youtuber che hanno comunque la striscia tutta colorata sulle postazioni, è bellissima, infatti adesso mi è arrivata anche me, sì! Allora, andiamo a aprire qua, così vi faccio vedere, poi spegniamo le luci così si vede meglio. Io non so come fa collegato, ma vedete c'è mio maritino qua, comunque non è difficile, sono me che sono un po' imbranata. Beh qua c'è il connettore, lo collegate, vedete c'è il segno, tac così, col pin, quei pin qua. Ok, ok adesso dopo qua, in questo buco ci va l'alimentatore, che è qua aspettate che lo sleghiamo, perché è tutto giustamente imballato. Infiliamo qua. Questo è l'RGB controller, che ci permette di appunto di variare i vari colori. Questo adesso lo attacchiamo nella presa, scusate, adesso che passiamo di lì e lo mettiamo nella corrente. E poi adesso togliamo il telecomandino. Uh, è già partita la luce, l'ho visto eh! Aspetta. È la mia postazione, è bella piena di tutto. Allora, telecomandino. Cosa facciamo adesso? Ti lascio fare a te amore, che siete. Ti accendi. Allora, spegniamo le luci. Guardate che bello. Prova a spegnere le luci. Allora, aspettate che adesso vi lasciamo soft. Che meraviglia! Aspetta eh. Ed è adesiva, vedete? Esatto. Dopo vi faccio vedere bene quando riaccediamo le luci. Adesivo 3M sarà sicuramente perché... Sì. Esatto, sempre quello. E potete attaccarla. E poi lascio tramite il telecomando. Che bello, lo attacco su tutta la scrivania. Potete cambiare i colori. Rosso! Ma che bella. E dopo un po' allampeggia magari. Sì, c'è tante funzioni. Infatti tutto il telecomando c'è su tutto. Guardate che belle. Sì, tante, quello non c'è anche... E 5 metri non è anche poco, si può fare tutto il giro della scrivania. Che bello, amore. Beh, i colori. Bianco. È rosia sembra questo. Sì, questo bianco. È il mio colore preferito. Sono abbastanza fedeli, dai, come colori. Rosino. Rosino chiave. Questo è un po' più scuro. Tac. Tac. Molto bello. Dopo. Vediamo questo. E si illumina tutta, e vedete qua, che io c'ho il rotolo. Lo srotoliamo tutta. Vedete che fa anche... Ah, dopo fa tutto la disco. Anche per il Natale va stra bene. Ma veramente però. Questo flash, vediamo. Tac. Flash. Ah, c'è proprio tante funzionalità. Sì, 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 sì. Ma che bella. Guarda che... Ti immagini, amore, attaccarla sulla mia schivagnò? Che bello. Intanto che dormi. Intanto che dormi. No, vedi? Non sono belle comunque. Ma sì, anche per il prezzo che hanno non è neanche tanto. Cioè, adesivi, gli attacchi dove c'hai voglia, dove vuoi fare la luce. Poi mi fa anche bene perché comunque la mia presa è qua sopra. Si può attaccare benissimo, metterle lì sotto. Qualcosa ci faremo di sicuro perché sono molto carine. Sono sfiziosi come cose, belle, originali. Poi adesso arriva Natale. Flash. Alla viene Natale. Questo è flash. Questo è flash. Flash. Flash si vede perché... Che bello questo rosa, è il mio preferito. Vabbè, tanti bei colori. Sì, sì. Adesso aspetta che riaccendiamo le luci così facciamo vedere bene anche il telecomando. È comunque molto facile da usare. Vedete? Qua c'è tutti i colori che voi schiacciate e appunto esce il colore. E ha schiacciato appunto il verde. Questo ha schiacciato il blu e esce il blu. E beh, proprio al telecomando è giusto. Non ci scappi, ci azzecca in pieno. Sì, sì. Arancio. Un altro verdino. Ma è bello. È molto bello. Sì. È bello perché tutto è pieno di colori. Cioè, capito? Non è solo la classica bianca. È originale per questo. Che bello questo. Comunque per installazione. Ho visto adesso che c'è... Centro sulle sue istruzioni comunque. Lo schemino. Sì, niente di complicato. Sono due collegamenti da fare. Sì, infatti vi ho fatto vedere mio marito com'è. E niente, nella scatoletta c'è quel fogliettino. E non gli manca proprio niente. Che dire? Lo attaccherò? Lo attacchiamo? Sììì. Sono contentissima. Io ringrazio appunto e ringrazio anche voi che ci seguite. vi ricordo che trovate tutti i link sotto nell'info box e niente io vi do appuntamento al prossimo video credo di avervi detto tutto per qualsiasi cosa sono qua pronta a rispondere ciao al prossimo